Cari amici, io ricevo da voi tantissime segnalazioni su Messenger, su WhatsApp, attraverso telefonate e sono contentissimo perché sono un consigliere di strada, a me piace il rapporto diretto con il cittadino, raccogliere le segnalazioni e rendere pubbliche le vostre denunce e poi portarle nelle sedi competenti, negli uffici comunali per cercare di avere risposte, per cercare di risolvere il problema. Però vi dico, la mole di segnalazioni sono così tante, io ne ricevo almeno 40-50 al giorno. Ovviamente non posso essere presente ovunque e quindi di essere presente a far effettuare riprese e quant'altro. Io cerco ovviamente di essere presente il più possibile, ma non posso essere presente ovunque, dovrei essere Padre Pio o Sant'Antonio che avevano il dono dell'ubiquità, essere presenti ovunque, contemporaneamente in più luoghi. E allora cosa possiamo fare? Facciamo così, voi quando avete una segnalazione me lo scrivete, mi scrivete su WhatsApp o mi telefonate tranquillamente, il mio numero è 339-240-4-240, ripeto, 339-240-4-240, c'è anche in sovrimpressione, e mi fate un video. Il video fatto in questo modo, lo fate con il telefonino, non in verticale ma in orizzontale, me lo fate così, guardate, così. E mi fate vedere prima la zona in cui ci troviamo, per esempio, ci troviamo qui in Via Lago di Varano, ci sono le buche, c'è il marciapiede rotto, mi fate vedere prima la zona in cui ci troviamo, ecco qui Via Lago di Varano, da quella parte c'è Via Le Magna Grecia, quindi seguiamo questa tecnica, inquadriamo prima la zona, facciamo vedere dove ci troviamo e poi una volta che abbiamo fatto vedere la zona, mi fate vedere la cosa specifica, come in questo caso, i mattoni, il marciapiede rotto. Ricordate sempre, dicevo, con il telefonino in orizzontale, vedete, in orizzontale, così, non così, ma così. Me lo mandate, mi potete chiaramente telefonare e in questo modo cerchiamo insieme di accorciare i tempi, noi abbreviamo i tempi di modo che subito quella segnalazione io la posso pubblicare e contemporaneamente portare negli uffici comunali. Un modo di collaborare perché voglio essere sempre con voi e perché poi magari mi dispiace che qualcuno può dirmi, come è giusto che dica, eh Luigi ma ti ho segnalato questo ma non me l'hai evidenziato. In questo modo accorciamo i tempi. Uniti si vince. Forza Tarantini, combattiamo insieme.